Perché il governatore ti chiama alle tre del mattino? Molly, perché il governatore chiama te, anzi? Ho un problema. Con il governatore. Cioè cosa? Una sera durante la campagna in Iowa. Abbiamo festeggiato da Ben dopo il discorso a De Moines. Avete festeggiato tu con Ben e il governatore? No, lui non c'era. E dov'era? Io gli ho portato una copia delle ultime proiezioni. Dopo aver festeggiato? Era circa mezzanotte. Lui è stato a lungo sulla porta. Così soltanto a chiacchierare con me. E poi dietro di me la porta si è chiusa. Porca puttana Troia. Eri ubriaca? No, così tanto. L'hai più rivisto? No, solo quella volta. Solo quella? Solo quella. Ne hai parlato con qualcuno? No, nessuno. Ti ha vista qualcuno? No. Come lo sai? Sono sicura. Mi dici perché ti chiama allora? Sono io che l'ho chiamato. Perché? Perché non sapevo a chi altro chiedere aiuto. A chi chiedevo 900 dollari. Per cosa? Certo non ha mio padre. Lui è cattolico. Su di qualcosa. Steven.